Ciao ragazzi, siamo qui oggi per tornare a parlare del Novara e della prossima partita che ci sarà, ovvero Novara-Renate al Silvio Piola alle 2.30 Una partita difficile contro la prima della classe, in questo momento Renate ha 19 punti, il Novara è a meno 5, ha 14, non so se non sbaglio Non vorrei dire una stupidaggine, ma sì, no, forse 13 Sapete che adesso guarda, vado subito a guardare perché non vorrei dirvi stupidaggini So che la Renate è a più 5, è a più 5 sul Novara E la Renate ha 19 punti e noi siamo a 14, sì, più 5, ok, è una partita difficile, certamente senza alcun ombra di dubbio Però arriva forse nel momento giusto, cioè la partita può essere sfruttata Perché è una vittoria contro la prima della classe, contro la prima in classifica Poi ci sono tanti recuperi, il Como potrebbe andare a più 8 da noi e la Provercellia più 9, vincendo tutti i recuperi Però una vittoria contro la prima della classe darebbe anche un forte entusiasmo Che ti può dare solo una vittoria contro una big contro la prima e andresti anche a meno 2 dalla Renate Cosa importantissima perché non si possono più perdere punti dalle prime in classifica Quindi si arriva nel momento giusto perché può essere sfruttata come può essere non sfruttata Perdendo e perdendo ulteriori punti o perdendo ulteriori distacco dalle prime posizioni Il Renate è una squadra forte, come ho sempre detto una di quelle squadre molto organizzate Come l'Albino Leffe, come anche l'Albino Leffe oppure anche come altre squadre Adesso non mi vengono in mente altri esempi Che subiscono pochi gol Sono molto unite, molto compatte difensivamente come anche il Ponte d'Era Che magari non fanno tantissimi gol, però difensivamente sono messe veramente molto bene Sono delle squadre che si conoscono da tanto tempo perché non cambiano tanto E quindi sono veramente delle squadre molto compatte e difficili da affrontare E Renate che sarà senza Jovinco, squalificato per espulsione Jovinco è il fratello del più celebre Jovinco ex Juve Però lì davanti ci sarà ancora Galoppini Però vorrei parlare un po' del Novara E di cosa è mancato secondo me nelle ultime partite Ditemelo voi sotto nei commenti cosa è mancato secondo voi a questo Novara Per adesso perché 14 punti in 10 partite non vanno bene Certamente non è una media da prima posizione È una media da ottavo o nono posto Che non va assolutamente bene Cosa manca secondo voi a questo Novara? Manca qualità? Manca gli schemi di gioco validi? Manca la forza mentale? Manca la grinta? Ditemelo qua sotto nei commenti E io vi dico la mia Secondo me qualitivamente e tatticamente il Novara è messo bene Marcolini è un allenatore che è molto preparato tatticamente Lo abbiamo visto anche nelle interviste Lo abbiamo visto anche come ha fatto giocare la squadra contro la Juventus Andare in P3 Forse con il Lecco è andata peggio decisamente Qualitivamente ci siamo Siamo secondo me una delle squadre più forti di tutta la Serie C Credo che sia più forte del Novara al Bari Ma ce la giochiamo anche ampiamente con il Bari Perché abbiamo giocatori che negli ultimi 5 anni hanno giocato in Serie B Come Bianchi che ha giocato anche a Lez United Migliorini, Firenze, Zigoni, Lanni Tutta gente che viene dalla Serie B Quindi tutta gente che ha fatto che è di categoria superiore Quindi qualitivamente presi uno per uno Novara ha una delle rose più forti della Serie C Però manca qualcosa sotto l'aspetto morale Sotto l'aspetto della grinta Perché vedo che questo Novara non lotta Almeno non sempre E' un Novara che è molto diverso da quello dell'anno scorso Il Novara dell'anno scorso Pur non essendo la squadra più forte Tatticamente, qualitativamente Era un Novara che ci metteva sempre il 120% in campo E anche se perdeva il Novara riceveva sempre Tantissimi applausi Perché? Perché i giocatori mettevano tutto in campo Mi ricordo la partita contro la Provercelli Contro il Monza A fine partita solo applausi Perché il Novara aveva giocato bene Contro il Monza in 70 minuti Dove abbiamo avuto tre grandissime occasioni per andare in vantaggio Come ad esempio il controvede di Gonzales Contro la Provercelli avevano preso due legni Cioè, il Novara se perdeva l'anno scorso Perdeva però giocando bene Giocando bene Questo è già qualcosa in più Perché la sconfitta di Lecco E la sconfitta di Sesto Stangiovanni contro la Pro Sesto Sono due sconfitte Sì, ma abbiamo giocato male Il Novara ha giocato veramente male in queste due partite Quindi un conto se il Novara l'anno scorso perdeva Giocava bene e prendeva gli applausi Quest'anno il Novara quando perde gioca male Perché? Perché manca la grinta Manca la voglia di mettersi in gioco Di farsi vedere Certo perché molti giocatori non hanno Non si devono mettere in mostra Perché le sappiamo tutte le qualità di Migliorini Di Zigoni, di Lanini E di tanti altri Mentre l'anno scorso quando aveva Cassandra Dalla prima vera del Bologna Pugliano dalla prima vera del Chievo Piscitella dalla retrocesione con il Carti Bortolussi dalla retrocesione con la Lucchese Dovevano mettersi in mostra E l'hanno fatto L'hanno fatto decisamente molto bene tutti Lo stesso Barbieri si doveva mettere in mostra Anche il mister che non aveva mai allenato Aveva una grande occasione Tutti avevano una grande occasione E l'hanno sfruttata Infatti vediamo Cassandra Adesso Cittadella Sì è Cittadella Barbieri ha preso la Juventus Nardi è nato la Cremonese Quindi Molti hanno sfruttato la chance E hanno fatto un salto di categoria Giustamente Meritatamente Però vedo che quest'anno Manca la grinta Manca la grinta che l'hanno Anno scorso di dare sempre il 120% Io perché ho primato Piscitella a Lecco Perché Piscitella a Lecco Ha dato il 100% Ha dato tutto quello che poteva dare E' uscito al settantesimo con i crampi Dopo che ha fatto un'ottima partita E' stato il più pericoloso Nonostante fosse quello che Non giocava dal primo minuto Da luglio Da luglio Quindi l'ho premiato con un 7 Perché Piscitella è L'esempio del Novara dell'anno scorso Che lottava Che ci metteva grinta Che voleva sempre portare a casa i tre punti Ci deve essere la voglia La grinta di prendersi tre punti E se perdi La partita dopo Metti in campo una rabbia agonistica Pazzesca Cosa che faceva l'anno scorso il Novara Perché dopo che perdeva Il Novara Andava a vincere E andava a fare delle prestazioni ottime Perché io mi ricordo Pochissime Veramente pochissime partite Dall'anno scorso Dove il Novara ha giocato male Veramente forse Non me ne ricordo Non me ne ricordo neanche una Dove veramente Ha giocato male Come ad esempio Contro la Pro Sesto O contro l'Ecco Di quest'anno Perché contro l'Ecco Prima del novantesimo Non siamo mai arrivati Nell'area avversaria E questo E questo è veramente grave Quindi secondo me manca questo Manca qualcosa a livello mentale Manca il gruppo E secondo me forse È cambiato anche Perché è cambiato l'allenatore Perché Banchieri Non era uno che Ne sapeva tantissimo Di tattiche Di schemi Di moduli Ma era uno Che lavorava tantissimo Sul gruppo Per il gruppo dell'anno scorso È stato Un gruppo bellissimo Si vedeva un gruppo Così unito Da il Novara di Tesseria E anche quest'anno Con la vittoria Il novantacinquesimo Ad Alessandra E a Livorno Sono state le prove Di quello che aveva fatto Banchieri Con questo gruppo Unito Un gruppo coeso Che non molla E nonostante Abbia subito il gol All'ottantottesimo A Livorno Al novantunesimo Torna in vantaggio Perché non molla E questa cosa Non è successa all'Ecco Perché all'Ecco Si è andata in svantaggio E non è cambiato nulla La grinta Pochissima che c'era Non è cambiata E l'unico tiro in porta È arrivato al novantacinquesimo E questa è la differenza Il crederci sempre Il cercare di mettere la grinta E contro Renate Bisogna vedere questa prestazione Perché la Serie C Non è una Una categoria Dove vince la qualità Certo qualche volta Può vincere la qualità Ma Vince chi ci crede di più Perché è un campionato sporco Un campionato dove ci sono Partite brutte Che Magari Molto fisiche Come è stata quella l'Ecco E chi vince Vince chi ci crede Chi ci mette più rinta L'Ecco Nel secondo tempo Ci ha messo Molta più rinta Del Novara Nonostante Anche l'Ecco Non è che avesse fatto Un grandissimo primo tempo A parte la traversa di Capone Ci ha messo più rinta E il vantaggio Secondo me È stato meritato Quindi Manca questo Perché I giocatori Che vengono Questi che vengono Dalla Serie B Devo un attimo Essere un po' più umili Ma Non ce l'ho con loro Umili Diciamo in senso buono Cioè Devono Capire che Si devono mettere in gioco Anche loro Perché questa è una categoria Completamente diversa Dalla Serie B Nella Serie B Certo Ci sono tante partite Dove Tionfa la qualità Qui Tionfa più La grinta Ci sono delle partite Spoke Contro quelle squadre Che magari Vengono dalla Serie D Che non hanno Tanta qualità E che devono Comunque Vincerla Con i propri mezzi E quindi ci vuole questo Più grinta Più voglia Di portare Casa dei tre punti Più determinazione Che erano Le caratteristiche Del Novara Di Banchieri E adesso vediamo Cosa farà Marco Lini Nelle prossime partite Perché sono già decisive Sono già importanti Non si possono Più perdere punti E una vettura Contro la Renate Darebbe credibilità Al mister E ci sarebbe Tornerebbe tanta fiducia Anche da parte Di tifosi Perché le aspettative Si sono alzate Con la rosa di quest'anno Le aspettative sono Molto più alte E per adesso Abbiamo tre punti Meno dell'anno scorso Fate voi Lasciate like Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo Un prossimo video Sempre Forza Novara Nel bene E nel male Sempre Forza Novara